La squadra oggi ha risposto bene a tutte le situazioni di gioco che avevamo preparato e sapevamo che potevamo mettere in difficoltà una San Giovannese che fino ad ora, nell'ultima partita, aveva fatto un ottimo campionato perché, se non sbaglio, aveva pareggiato sì domenica scorsa a San Sepolco in un campo molto caldo, un campo difficile, però aveva vinto largamente le altre tre partite di cui due in trasferta quindi sapevamo che venivamo qua a San Giovanni a giocare una partita contro una squadra forte in salute, chiaramente anche a San Giovannese gli mancavano due giocatori importanti però anche noi avevamo due defezioni di rilievo, anzi tre defezioni di rilievo perché in avanti ci mancava Pagano, a centrocampo gli mancava il 97 più pronto che abbiamo che Russo e dietro mancava il capitano, Angeli, insomma le assenze erano pesanti anche per noi, però i ragazzi che l'hanno sostituiti, che sono andati in campo hanno fatto un lavoro eccezionale sono veramente orgoglioso perché oggi hanno risposto bene a tutte le sollecitazioni, le indicazioni che io e il mio staff abbiamo dato durante la settimana non sto qui a parlare e a sottolineare gli episodi, per me non fa parte degli episodi in sé, ma per come vengono affrontate le partite per come vengono in qualche modo mentalmente scendere in campo perché la cosa importante è tutto lì, il fatto di scendere in campo sia in un modo o nell'altro fa la differenza e vi spiego per quale motivo, se tre partite fa, quattro partite fa eravamo qui a parlare di altre cose ora ne parliamo di altre, vedi come è strano tutto, a calcio come è bello, come è simpatico, come ti fa veramente ragionare su una cosa deve sempre essere concentrato, deve sempre stare sul pezzo, non deve mollare mai niente perché poi succede quello che è successo adesso questa è una partita da cancellare, lo so io prima, la partita da cancellare e non va neanche commentata per gli episodi fastidiosi e brutti che si sono visti oggi, la colpa è di nessuno, la colpa è mia la colpa è mia perché è giusto che io mi assumo tutte le responsabilità, però vi dico che è una partita che va cancellata prima possibile perché non è la squadra che abbiamo visto l'ultimo periodo, quindi la cancelliamo non l'abbiamo giocato questa partita, si va avanti a testa alta perché secondo me è una partita che ci può far riflettere ci fa pensare in modo particolare, in modo strano, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada sempre, sempre con i piedi per terra, con umiltà, tanta umiltà è quello che è mancato oggi perché sono mancato un po' di situazioni che secondo me fanno un po' ragionare, riflettere, episodi particolari episodi che strano, che possono arrivare, succede, sono successi, sono arrivati e quindi analizziamo un po' questo, però non la voglio analizzare perché secondo me non ha senso analizzare perché io ho visto, sinceramente non ho visto la mia squadra oggi, la squadra che abbiamo visto le due o tre partite quindi fa pensare e fa riflettere anche me, ripeto, eliminiamola subito, però ci deve un po' far riflettere per come l'abbiamo affrontato Partita perfetta, quella che uno pensa di fare poi in un ambiente del genere, che conosco molto bene infatti voglio ringraziare tutti, sia gli Ultras, quelli in tribuna, per l'accoglienza e poi è normale, ognuno va in campo per cercare di vincere State assumendo una maggiore sicurezza? Sì, all'inizio non eravamo questi perché ha fatto la squadra un po' in ritardo per via del ripescaggio, anche fisicamente non stavamo bene e ora piano piano penso che stiamo trovando la nostra identità e se continuiamo con questa umiltà pensiamo levarci diverse soddisfazioni